Adesso vi porto da un mio amico, Dien Vien. Ciao Marco, sono appena arrivato, ho appena finito di fare questo locale, questo bel progetto, ma non sono mai venuto a mangiare e quindi non ho mai assaggiato. Cosa mi aspetta? Allora, sano sano non è altro, non sono delle lucine di Germania, dove però ci piace trattare gli alimenti in un certo modo, con attrezzatura all'avanguardia, tecniche di cottura rapide o a bassa temperatura o a bambini. E in più non ci piace utilizzare i grassi animali, però facciamo una cucina buona che ti fa bene. Quindi possiamo dire che invitiamo le persone a venire a mangiare da sano sano, perché troveranno un cibo, del benessere, ma soprattutto la tecnologia elettrodossa.